La Yo-la-la-la-le-oo la-la-la-la Chitarra Rosso sono un gruppo di musica popolare sono soprattutto un gruppo di persone, di amici, di musicanti e teatranti Non vogliono tirare fuori quanto di buono c'è nella loro regione, nel loro territorio, dal punto di vista musicale e anche scenico. In realtà poi sono diventati una specie di sogno per tutti coloro che ci seguono. Per i Terra Ross la Puglia è sicuramente la radice, è l'identità su cui si basa tutta la nostra essenza in quanto pugliesi. Ed è appunto sempre il focus su cui ci concentriamo e ci orientiamo per mantenere noi stessi e la nostra identità radicata, la nostra terra e per trasmetterla e farla conoscere alla gente che ci ascolta. Grazie 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 Grazie